Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il Casi e oggi vi mostrerò come disinstallare un gioco, o meglio, un gioco di Steam. Di solito vi basterà cercare sul pannello di controllo, fra i programmi, disinstalla un programma ed ecco qua, qua troverete il vostro gioco in questione e lo disinstallerete. Se così non fosse, bisogna andare su Steam, andare sul gioco o sul programma che vogliamo e cliccare su questo ingranaggino, ci clicchiamo, andiamo su gestisci e poi clicchiamo su disinstalla. Vuoi disinstallare? Io in questo caso non lo voglio disinstallare, quindi annullo. Spero che per quanto breve questo video vi sia stato d'aiuto, se così è stato lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!